La piattaforma Gamskoo che ti permette di risparmiare soprattutto sulle piattaforme streaming come Netflix, YouTube Premium e Disney Plus e soprattutto anche Paramount Plus e altri servizi dove tu puoi lavorare. Quindi come puoi vedere Disney Plus 12 mesi 25,98€ più il codice promozionale che vedi qua sotto ha soli 24€ ogni 12 mesi Disney Plus. Quindi in questo caso come puoi vedere qua sto comprando Netflix quindi compro direttamente i tre mesi di Netflix e così facendo loro ti mandano per via email le credenziali sia l'email che la password. Quindi prendi questi credenziali e le metti sulla piattaforma Netflix. Accedo ed ecco qua i profili. Entro così in un mio profilo e posso guardarmi Netflix per tre mesi. Stessa cosa anche con Disney Plus quindi ti mandano per via email le credenziali di Disney Plus, l'email e la password. Puoi vedere e gestire tutto attraverso qua sopra. Qui su accedi quindi tu ti ho lasciato così il link in descrizione. Accedi direttamente con il tuo account Google così facendo è più facile ricevere un'email proprio sul tuo account Google personale. Vado direttamente su abbonamenti ed eccoli qua. Come puoi vedere avevo comprato un abbonamento di Disney Plus che poi mi è scaduto ormai da un anno. Per un anno intero mi sono divertito a usare Disney Plus a guardarmi film e serie tv. Stessa cosa anche con Netflix. Come puoi vedere qui ho comprato più di un account Netflix e li ho comprati perché non ho rinnovato l'account perché se tu rinnovi l'account ti regalano dei giorni extra. Quindi trovi tutto in descrizione ovviamente se hai problemi su GAMSGO oppure se non sei soddisfatto puoi chiedere il rimborso come puoi vedere garanzia di rimborso clicchi qua e chiedi così il tuo rimborso. Ci sono molti utenti che comprano su GAMSGO e tu puoi comprare qualsiasi servizio. Chiedere anche assistenza, supporto in diretta 24 su 24, 7 giorni su 7. La consegna è entro un paio di secondi. A me ci mette sempre entro qualche 10-15 secondi, basta che aggiorni sempre la pagina e li trovi su tuo account abbonamenti. Comunque la piattaforma GAMSGO è una piattaforma affidabile, legale e se hai problemi commenta sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.